La Virtus Francavilla continua a lavorare in vista del prossimo campionato e il primo nodo da sciogliere è quello relativo agli svincolati. Sono ben 5 i calciatori in scadenza di contratto e difficilmente qualcuno potrebbe restare a Francavilla. Si tratta di Costa, Pambianchi, Marino, Nunzella e Zenuni, tutti in partenza insomma, con le valigie in mano. L'unico che potrebbe restare è Capitan Nunzella. Le parti si incontreranno nei prossimi giorni per discutere del futuro, ma non sono esclusi colpi di scena. Chi probabilmente aspettava invece il rinnovo era il giovane Brian Costa che col tempo si è conquistato sul campo il posto da titolare a scapito di Diamante Crispino, protagonista di una stagione deludente. Piazza pulita insomma, tra i pali della Virtus Francavilla con il direttore generale Angelo Antonazzo al lavoro per cercare almeno un portiere d'esperienza che possa garantire sicurezza tra i pali del Francavilla. Il passato insomma è un punto di partenza per errori da non commettere più in casa biancazzurra e la giusta quantità di esperienza nella rosa della prossima stagione sembra essere una delle priorità del presidente Antonio Magri.